Grazie a tutti 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 E poi Grazie a tutti 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 E' veniva con una sorta ben vista grazie abbiamo fatto il 31 facciamo il 32 e siamo passati non posso Stai bene qua qua, eh? Sì. Ah, che è qui il famoso... Via, aspetta. Così, questo è il limite per prendere tutta la torre. Faccio una miniera. I ragazzi qui hanno esaltato quello che ha fatto l'Everest però a noi, eh? E' l'aspettato. Giornosignore, siamo alla terza di queste case. Sì. No, non metta fuoco! No, mettiti merda! Sei merda, è vero? Merda. Il panoramico è sempre merda. Occhio! Non ha fuoco? No, no, no. Allora, fai come hanno fuoco. Sì, sì. No, non sai. No, non sai. No, non sai. No, non sai. Non sai.